I pagamenti del reddito di cittadinanza di giugno saranno pagati dalle poste italiane in queste due dati diverse, il 15 di giugno e il 27 di giugno. Le lavorazioni sono già partite dal 13 di giugno e comunque stanno andando avanti ancora il 14 di giugno. E poi i pagamenti delle ricariche inizieranno tra le 13.30 e le 14.00, quindi diciamo che è quasi inutile andare alla posta la mattina perché tanto credo che non trovate niente, quindi io vi consiglio di andare comunque dopo pranzo. Ora vi faccio un riassunto generale di tutte le date delle lavorazioni e dei pagamenti da parte dell'Inse per il mese di giugno e anche di luglio. Al 15 di giugno arriva il pagamento del reddito di cittadinanza alle famiglie che ricevono il primo pagamento del sussidio oppure la prima ricarica dopo averlo rinnovato. Al 27 di giugno invece arriva il pagamento di RDC a tutte le altre famiglie che aspettano il pagamento mensile del reddito di cittadinanza, quindi diciamo che sono i vecchi percettori. Poi abbiamo assegno unico su RDC di giugno tra il 27 e il 30 di giugno. Poi abbiamo assegno unico su RDC per chi ha compilato il modello AU a maggio e il pagamento sarà tra il 27 e il 30 di giugno. E per ultimo abbiamo assegno unico su RDC per chi ha compilato il modulo AU a giugno e quindi il pagamento sarà fatto tra il 27 e il 31 di luglio. Per altri aggiornamenti sempre sul mio canale di YouTube.